non ha messo neanche mezzo si a me come al solito le sono tagliate a fuoco dai, 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 dai sta facendo un video dai, 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 facciamo un video ciao, ciao, ciao quale? no, 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 Maria c'è una chiacchina i cavoli, forza e si balla no, 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 no guarda un uccellino per aprire queste branche adesso molti nuovi ho sbagliato troppo almeno in questo e la vita è per amore io ti prendo adesso adesso e la notte dei vicini questa notte io ti prendo come fosse un fiore e la mano della mano ti conosco e la vita è per amore io ti prendo adesso e la vita è per amore 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 e la vita è per amore